Ma per noi che veniamo dall'estero l'audiolibro era già una realtà molto importante direi. Mi sono sempre occupata di editoria e ho sempre rimpianto che in Italia non ci fosse la possibilità di ascoltare le voci degli autori. Quindi abbiamo provato. Ci sono due vantaggi degli audiolibri. Uno è un vantaggio pratico, cioè si può leggere anche quando uno ha le mani e gli occhi occupati, quindi guidando, cucinando, facendo un puzzle di 5.000 pezzi, dipingendo la sedia. E l'altro è il valore dell'interpretazione, cioè avere un libro che uno ha amato, letto dal autore stesso, oppure da un attore famoso aggiunge un'interpretazione che magari anche fa sognare di più o comunque dà una chiave di interpretazione. Io se devo ragionare per questi 5 anni passati abbiamo cominciato con il dover spiegare che l'audiolibro non è destinato ai ciechi, perché questa era l'obiezione. Ma io non sono mica cieco. Volevamo fare addirittura un convegno su questo. Ma adesso siamo arrivati a un punto in cui ci chiedono quali nuovi titoli avete pubblicato. Quindi penso che siamo arrivati anche a essere accettati. E' motivato da un dato, dalla questione qual è un libro adatto a essere letto ad alta voce. Certo, Guerra e pace sarebbe per esempio un'impresa. L'hanno fatto in altri paesi, ma noi ancora non ci siamo avvicinati. Quindi è un po' le dimensioni, è un po' lo stile del libro, un po' anche la popolarità del libro. Ci sono autori che amano leggere, che hanno anche un rapporto particolare con il reading come forma di presentazione. Abbiamo cominciato con autori come Veronesi, Caro Figlio, Mazzucco, Piccolo, che sono molto bravi a interpretare le loro opere. Ci sono anche autori che non amano leggere le loro opere, come la Agus. Allora abbiamo scelto un'attrice particolarmente adatta, che era Margherita Bui. E poi ci sono i classici, oppure i libri in lingua straniera, che non possono essere letti dai loro autori. I libri di Jane Austen e abbiamo trovato Paola Cortellesi, oppure Claudio Santamaria per Simenon. Quindi sono abbinamenti che ci piacciono molto e aggiungono effettivamente una dimensione. Allora abbiamo alcuni best seller, diciamo Caro Figlio con Testimone Inconsapevole è andato molto bene, L'eleganza del riccio di Muriel Barberi, sta andando molto bene l'Odissea, sta andando molto bene Jane Austen. Adesso le nostre due novità del momento, Gadda, il pasticciaccio brutto di via Merulana letto da Gifuni, sta andando molto bene, e anche i sillabari di Parise letti da Nanni Moretti.